Allora, professoressa Bragaglia, professor Bennato, professor Conte, l'offerta della settimana. Professor Bennato, Catania. Ma dal mio punto di vista mi sembra una settimana piuttosto, diciamo così, succulenta, perché nel momento in cui mi sono trovato a scegliere, diciamo così, quali potessero essere le pellicole che mi avrebbero portato in sala, mi sono trovato a considerarle più o meno tutte, quindi dovrò cercare di balcamenarmi fra le sale, le arene e in futuro con la programmazione appunto delle piattaforme. Per quanto mi riguarda però c'è sicuramente uno che spicca, che mi incuriosisce più di altri, che è la memoria dell'assassino, perché è un po' perché appunto a me piacciono i noir, e poi perché c'è sicuramente una componente di quando la mente comincia a sbriciolarsi ma tu devi portare a termine un obiettivo che in questo caso è molto delicato come una vendetta per conto del proprio figlio. Quindi questo mi sembra anche un bel intreccio, un bel intreccio da rendere esplicito e da rendere chiaro. Poi da un altro punto di vista c'è Walken, perché un po' perché appunto è fantascienza, e io ho il mio cuore da quella parte, ma anche perché la storia è narrata nel momento in cui comincia a disgregarsi piano piano il mondo che ti sta intorno, quindi ciò che tu dai tutto per scontato in realtà comincia piano piano ad incrinarsi e le cose non sono quello che sembrano, che quindi è questa esperienza del weird, dell'instabile, del perturbante che caratterizza la società contemporanea. Sempre nell'ambito della società contemporanea poi c'è sicuramente Acid, un po' perché ho visto il film precedente che era Lo sciame, dove c'erano queste terrificanti cavallette carnivore che mi hanno molto affascinato, e poi perché secondo me questa idea di usare una distopia basata sull'horror ecologico di uno scenario che potrebbe verificarsi, perché ci sarebbe una base scientifica che giustifica queste piogge acide e tutta la conseguenza, è intrecciato poi con i rapporti fra i protagonisti, sicuramente è qualcosa che ci deve far aprire gli occhi su quello che potrebbe diventare l'ambiente se non sufficientemente protetto e difeso come stiamo assistendo in questi ultimi tempi. Poi colgo l'occasione, me lo faccio dire Marzullo, di salutare Nicola Angelozzi, dato che ci conosciamo mi faceva piacere che finalmente ci troviamo insieme nella stessa trasmissione televisiva. Maria Cristina Bragaglia, l'offerta della settimana. Professore Benato, il suo commento a questa classifica che abbiamo letto. Da un punto di vista puramente superficiale mi sembra una classifica pienamente dentro l'estate. Al primo posto bambini, per dire che poi è più complicato, al secondo posto horror e al terzo film action, quindi siamo nell'atmosfera estiva. Però sono tutte tre pellicole di livello, perché Inside Out fa fita di essere un film per bambini, ma è molto complesso, molto articolato ed è un bellissimo, dal mio punto di vista, documentario per la preadolescenza. Poi c'è un horror basato sul silenzio, ma è un action horror molto particolare, e poi appunto ci sono gli action movie e il ritorno di Bad Boys. Quindi secondo me è l'estate che cerca di prendere, diciamo così, di andare a braccetto con i blockbuster. Professoressa Bragaglia. Professor Benato. Sì, sono andato al cinema due settimane fa per Inside Out, numero due, e mi sono molto divertito, oltre a usarlo come documentario per capire l'adolescenza di mia figlia. Ottimi incassi questo film. Professor Benato, lei a Massari. Sì, caspita, io diciamo che non ho una conoscenza ovviamente dettagliata, essendo di un'altra generazione, però me la ricordo con un suo personaggio che mi colpì molto in Alon San Fan. Questo me lo ricordo e mi colpì molto quel suo personaggio, questa donna molto particolare, che nonostante il film fosse degli anni 70, comunque mi sembra molto molto contemporaneo. Molto contemporaneo. Professor Benato.